Guardi, oggi noi siamo a Tor Sapienza, qualche giorno fa eravamo a Tor Pignattara, ancora prima eravamo a Giardinetti, in una serie di periferie di Roma dove il fenomeno dell'immigrazione incontrollata e dei centri per l'accoglienza dei migranti chiaramente è molto più sentito perché i signori dell'intelligenza che vengono nei salotti televisivi a spiegarci che noi dobbiamo essere solidali, poi omettono di dire che tutti questi immigrati fuori controllo e la situazione fuori controllo che loro hanno generato non sapendo gestire il fenomeno dell'immigrazione li stivano in periferia, dove già la gente vive condizioni di difficoltà, dove già spesso i servizi non sono gli stessi che ci sono nelle zone del centro, dove è più difficile avere sicurezza anche perché si hanno meno soldi per garantire da soli la propria sicurezza, cioè è facile dire che noi dobbiamo essere solidali quando poi nel quartiere nel quale si vive l'unico immigrato che si vede è la propria colfa e il giardiniere e tutto il resto viene scaricato sulla povera gente.